Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che ovviamente rappresenta la pace e ce n'è tanto bisogno in questo periodo e quindi è davvero con piacere che vi accogliamo e vi facciamo domenica. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Bassetti, l'anno scorso è venuto ed è stato 5 giorni fra Maratea e San Severino quando ho visto che io dovevo arrivare, chiamavo per nome dicevano, non mi rende capace, ma come fai a sapere questo nome? che sia Maratea, Laurido, così, specialmente San Severino era proprio come una cosa dicevano, veramente è proprio bene così allora, a barco è morto un cristiano era di Conottieda per la precisione lì c'era un sacristano, siamo Franchino, uno prossimo prossimo che aveva preparato l'acqua santa, come ha fatto Don Giuseppe adesso ha preparato l'acqua santa e aveva... ecco, questo è avvitato, non esce se io svito, esce l'acqua allora, aveva già svitato io vado vicino al morto che aveva benedice ho svitato ancora ma non ho svitato troppo come ho fatto così? è partito e ha dato in testa al morto che era nella casa con la stella il genero che è un mio compagno di scuola mi trova, è fatto socio, è fatto a me perché non me l'hai detto prima che li chiamavo prima? lo facevi fuori tu? lo facevi fuori tu? a te così... a te lo facevi fuori tu? era per far capire al collega così... cosa si può fare? e... se lo fa bene... se lo fa bene... se lo fa bene... se lo fa bene... la salute è il più importante che ci viene da... saluto... 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 saluto...